e molti di noi lo ricordano ancora per la sequenza fatta di amici miei lui era il professor sassaroli il primario brillante ma insoddisfatto della vita e insieme appunto a questi fiorentini e dato vita alle zingarate cieli però ha fatto anche ricoperto dei ruoli di duro ha ricoperto western ha ricoperto tutto e non disdegnava ovviamente il teatro la sua seconda patria di adozione fu il brasile lui frequentò l'accademia d'amico di roma li ha incontrato landi caprioli sono stati loro gas ma sono stati loro che lo hanno un po indirizzato a questa carriera questa carriera che ha svolto veramente in maniera magnifica un bel personaggio espressivo veramente forte tosto e sapeva anche essere dolce fare parte da persona dolcissima lui è morto qui in toscana a siena una notte deceduto per infarto doveva rappresentare il misteri di pietroburgo pensate che è morto quando il figlio avrebbe dovuto festeggiare con lui il diciottesimo anno di età